Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, benvenuti nella seconda parte del What's del MyPhone, la seconda parte perché l'unico video stava diventando un po' lungo e nessuno da agosto se lo guarda tutto, comunque vi stavo dicendo che Lightroom è stracomoda, è gratuita e con questa principalmente ci edito le foto di Instagram e le foto e anche le thumbnail di YouTube, ad esempio questa, così non si vedrà tanto, però questa così, è passata così, ha colori più accesi, è tutto un po' più chiaro più definito, poi questa non è cambiata tantissimo mi sembra, mi sono fatto un po' più chiara perché ho tipo troppo scura, però solo sulla fronte, imbarazzante, è proprio abbronzata male, vediamo non so, questa qui secondo me non è cambiata tantissimo, vedete sono solo un po' meno bianca e c'è un po' più di colore e su Lightroom ho anche dei preset che ho comprato da due po' più di colore e sui preset che sono poi delle serie di filtri e uno di questi filtri, uno di questi influencer si chiama A-G-I-E, i suoi preset sono buonissimi, costano cari, perché ragazzi costano cari, su questa foto non rendono, però ad esempio qui, faccio vedere una foto che, per dirvi questa foto, solo con un preset, cioè un filtro è diventato da così, da così, da così, quindi super top veramente, pure anche questa foto che io adoro, il mio ragazzo, da così, da così, rendiamoci conto, quindi super belli, quelli dell'altro non mi fanno impazzire, però questi qui che vi dico sono buonissimi, anche se li pagate cari, ve lo dico. Ok, poi, StoryArt, StoryArt è un'applicazione che vi permette di fare delle storie un po' più particolari, tipo, cioè con questi proprio template, le campane, spero non vi diano fastidio, e sì, un po' più particolari quando ha degli schemi predefiniti, quindi nulla di che, è solo per cambiare ogni tanto, e a volte mi chiedete appunto come hai fatto questa storia, cose varie, così. Ok. Poi Pirati in Viaggio, Pirati in Viaggio è il top, ci sono un sacco di offerte, guardiamo, Mallorca, vacanza capoverde, agosto e capodanno, ci penserò, e tutti questi posti, da tutte le offerte dei viaggi, se non avete ancora scaricato, scaricatelo, perché è fantastico, io ho anche lavoramento su Whatsapp, InShot è un'applicazione che uso per tagliare i video, per le storie, nulla di che, Spotify, chi c'è su Spotify? Allora, qui ci sono i miei album, per ora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma quando questo video sarà online, comunque ce ne sarà sicuramente un ottavo, e sì, ascolto il pagante, e quindi sì, sappiate che ci sono gli album anche su Spotify, vabbè, calcolatrice scientifica, hangout qualche volta, calendario, l'app del Mac, adesso è appunto luglio e ci sono i summer days, e io sono tipo sempre super curiosa di vedere cosa c'è, è due giorni che ci sono i gelati che fanno schifo, e oggi ci sono le patatine, ci sono, si chiamano le ricche, a un euro, non mi fanno impazzire le patatine del Mac, quindi, ma poi, cioè ci sono andato una volta con queste offerte, però mi piace proprio guardarci, questa è un app video, e qui ci sono tutti i commenti, vedete, ed è comodissimo perché mi permette di mettere i cuori, perché non ci sono cuori, oddio, vabbè, vedete, tipo qui già avevo cominciato da inserire i cuori, e poi controllare un sacco di cose, però principalmente lo uso per controllare i messaggi, i commenti, comodissimo, ok, IGTV, l'applicazione più utile del mondo, secondo nome, questa cos'è, Rayplay Radio, sempre per i podcast Instagram, vi faccio vedere, qui c'è l'ichiova, che figura, e vi faccio vedere la ragazza che vi ha detto, lei l'adorava delle foto pazzesche, e quindi, niente, è il suo preset, quello che vi ho fatto vedere, e qui, cioè, il mio profilo, se volete andarmi a seguire, in realtà sto mettendo veramente poche foto, tipo questa foto qui, questa foto qui, era modificata in modo pazzesco con il suo preset, per dirvi, comunque, vi trovate su Instagram come chiara.smr, kayak, kayak è un'altra applicazione molto utile, se vogliono vedere le offerte, soprattutto la sua, anzi solo, la sua modalità explore, che vi permette di vedere i voli più economici, vedete, magari mettete, non so, agosto, dicembre, eccetera, o mettete le date, e vi rimette in tutto il mondo, se siete aperti, volete farvi lasciar guidare dal caso, questo è comodo. Ok, Forest è un'applicazione che usavo quando stavo studiando, che ti permette, appunto, ti fa costruire la tua forestina ogni volta che raggiungi il tuo obiettivo di 20 minuti, mezz'ora, senza guardare il cellulare, e, carino, si usa, appunto, per studiare, basta. Poi, Skype, l'app del Roadhouse, per controllare i nostri punti, perché usavamo, soprattutto l'inverno, andiamo abbastanza al Roadhouse al giovedì, che ci sono i pallini al 50%, Messenger, Flixpass, Waze, molto meglio di Google Maps, scaricatelo, sostituite Google Maps con questo, YouTube, andiamo a vedere cosa mi suggerisce, ah, ecco, guardate, sono contenta che mi sia capitata lei, lei è un canale che sto seguendo ultimamente, ed è una ragazza che fa video di ricette, lei è vegana, io non sono né vegana né vegetariana, ma mi piace un sacco come si pone, i suoi video hanno un'estetica pazzesca, hanno delle ricette stupende e non vedo l'ora di provarle, e sì, mi va di farle un po' di pubblicità, perché su me se la merita, il suo canale sta crescendo molto e sono contentissima per lei, perché si pone in maniera veramente bella, veramente, vedete com'è fresca, com'è ragazza, ma lo so, piace tantissimo e super competente, ok, italo per vedere, soprattutto quando ci sono gli sconti, Photoshop lo uso per eliminare delle scritte dalle mie foto, principalmente, Easy Park per parcheggiare, e poi abbiamo l'ultima schermata con Slipo, che è tipo un'applicazione che permette di sovrapporre dei suoni, facciamo un piccolo esperimento, vedete, oppure posso mettere anche questo, posso mettere anche questo, posso mettere un ombraio, e poi poi ad esempio, a tipo, il suono delle persone, il suono del ventilatore, ah, il suono del fuoco, bello eh? insomma questo proviamo ci sono un sacco di suoni bianchi appunto insomma è carina ok l'app del Burger King anche qui ci sono sempre dei coupon delle offerte ma preferisco il Mac l'app per leggere i codici QR Amazon già prescaricata e praticamente non lo sto usando Amazon preferisco se posso lo evito anche per una questione di plastica e tutto l'app della Douglas che io adoro perché fa sempre delle offerte stupende vedete meno 20 crostase solari fino al 40% insomma ci sta fanno sempre degli sconti Shazam Pinterest questo è Nebi è molto comodo per le foto perché guardiamo ve lo faccio vedere con questo ma è uguale ti dà l'effetto dust e l'effetto polvere non so se si veda ma anche gli effetti un po' vintage vedete è carino vintage camera vi fa fare i video tipo stile vintage non lo di che e story art no come si chiama questo unfold stessa cosa per le storie sempre dei template per fare delle storie un po' più particolari tipo così non lo uso così mai però può essere utile poi dream lab l'app per la dicerla contro il cancro ogni com'è che funziona tutto tutto e devo metterlo in carico comunque ogni volta che lo metti in carica e non lo usi questo si carica e fondamentalmente torna alla ricerca satisbay questa è un'altra applicazione sempre per le storie contate che alcuni di questi template sono a pagamento però alla fine tipo questo è a pagamento però alcuni sono molto carini lo stesso cos'è? google pay dbop e revolut che è una carta che ho ok questa è quando io spero vi sia stato utile insomma questo video spero che vi abbia dato qualche ispirazione per nuove app ditemi anche se voi avete delle app che secondo che secondo il mio gusto mi piacerebbero non so come vedete non ho giochini e niente stanno sarei attaccata al cellulare 24 ore su 24 e già sono attaccata abbastanza voglio approfittarne per far vedere una cosa quando vado su instagram vi faccio vedere che io praticamente non sto pubblicando storie ne sto pubblicando pochissime e ad esempio qui una due e comunque ho i direct pieni adesso vabbè è stupido vedete ho i direct assolutamente pieni è stupido e vedete 99 più richieste io non so a volte sono in ritardo nel rispondere ma sappiate che ho veramente tante richieste solo quelle da accettare poi c'ho quelli che mi scrivono che sono già stati accettati quindi sì comunque spero di averlo questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto ricordate di mettere un bel mi piace e di commentare magari con un app che vi interessa particolarmente o con un app che mi suggerireste penso quindi sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi 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 una buona 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 sogni d'oro goodnight goodnight sweet dream buona snow adulto buon 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 goodnight goodnight buonanotte pastigini un bacione buon 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 buon